Cantine d'estate dal 29 luglio al 3 settembre la nuova iniziativa dell'assessorato regionale agricoltura e del movimento turismo del vino mini tour in 27 cantine selezionate e dall'enoteca regionale di Ortona, dalle principali località della costa partiranno pullman con turisti accompagnati da guida di interpreti in lingua inglese e tedesca per informazioni telefonare al numero 0872 70 82 66 oppure consultare il sito movimentoturismovino.it sezione Abruzzo Grazie a tutti